Un grandissimo piacere che do avvio questa sera alla sesta edizione del Festival del Pensare. Noi come amministrazione e tutti i nostri cittadini, tutti i cittadini hanno il dovere della scelta, hanno il dovere di mantenere, di non far precipitare il pianeta Terra. Ha cominciato a perdere l'appetito la Greta, mangiava un gnocco in cinque ore, un dispiacere, aveva che se dovesse succedere a me dovrei avere un dispiacere grossissimo. Questo non c'è più, questo non c'è più. Basta non avere sul pianeta 54 miliardi di bengalese. Grazie per la visione.